Grazie. 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 Grazie a che punto è questo documento, come prevede appunto l'articolo 6 della predetta legge sulla ricostruzione. Grazie. Grazie, consigliere Mancini. La parola al vicepresidente Morroni. Grazie, presidente. Consigliere Mancini. Grazie. Purtroppo, lo ricordava anche lei nel suo intervento, la ricostruzione post-sisma 2016 in tutte e quattro le regioni coinvolte sconta ritardi molto consistenti, le cui cause sono molteplici. Lei, alcune le ha ricordate poco fa. Per cercare di dare una svolta al desolante quadro che la ricostruzione ad oggi presenta, di recente il nuovo commissario Legnini ha emanato importanti ordinanze, ordinanze che semplificano l'attivazione degli interventi sia di ricostruzione privata e anche per quello che riguarda l'insieme delle chiese, i cui effetti si potranno vedere nei primi mesi del 2021. Quindi si percepisce, come opportunamente sottolineava, un cambio di passo che ci auguriamo possa consolidarsi nel corso del tempo e imprimere quell'accelerazione necessaria e indispensabile alla ricostruzione. Nel merito dell'interrogazione, quindi, non è difficile comprendere come la priorità del momento e della fase che abbiamo attraversato fin qui sia quella di far partire in concreto la ricostruzione. E far rientrare la popolazione nelle proprie case. Solamente una volta raggiunto questo obiettivo, che è un obiettivo naturalmente prioritario, fondamentale, si potrà ipotizzare un piano di rilancio della Valnerina e del Comune di Spoleto. Va detto altresì che qualsiasi piano di rilancio, per essere tale, deve prevedere un adeguato supporto in termini di risorse economiche, che attualmente sono appannaggio esclusivo del Commissario straordinario, il quale le ripartisce in modo proporzionale alle quattro regioni in base ad una percentuale che vede l'Umbria destinataria del solo 14%. Quindi, sottolineata la necessità, appunto, in termini di priorità, di riportare intanto la popolazione all'interno delle proprie abitazioni e quindi tornare a farvi vivere quei luoghi, da parte dell'esecutivo c'è naturalmente la piena consapevolezza dell'importanza essenziale che la definizione di un master plan, che soddisfi quegli obiettivi più propositi sanciti nella legge che lei richiamava, è e rimane una priorità e quindi l'impegno è quello di provvedere in un tempo prossimo alla stesura di questo piano che possa accompagnare e dare anche prospettive e certezze a quelle popolazioni, possa accompagnare una fase indispensabile di rilancio delle aree colpite dal sisma. La replica al Consigliere Mancini, prego. Grazie Vicepresidente, grazie Presidente. Allora, intanto per una questione di puntualità prendiamo atto che lo sforzo da parte di questa nuova Giunta è, come ha sintetizzato nel suo intervento, in essere e lo apprezziamo. Penso di interpretare ovviamente anche il pensiero della mia commissione, intesa come gruppo lega ma anche con il gruppo di minoranza, è a sua disposizione dalla Presidente e anche dall'assessore Melasecchia, che sono comunque assessorati, competenze, quadri operativi competenti, quindi per contribuire fortemente a essere auditori nel territorio di quelle istanze che mi sembra doveroso riportare in questo documento, che oggi, come tanti documenti della passata Giunta pensati ma mai realizzati, possano finalmente vedere la luce. Questo, tra l'altro, è richiamato come passaggio non solo nella legge del territorio in merito al master plan, ma anche per quello che riguarda l'osservatorio che la stessa legge richiama. Quindi la ringrazio del suo intervento e nello stesso tempo mi faccio ovviamente portatore di eventuali interessi con il lavoro, come abbiamo anche recentemente collaborato con lei, Assessore, per quanto riguarda le politiche sull'enoturismo. Quindi un lavoro di squadra che penso che debba essere condiviso affinché questo documento possa avere sfaccettature e un'idea complessiva di quello che è un sistema della Varnerina e del Comune di Spoleto sicuramente importante. Tra l'altro vale la pena ricordare in richiami che hanno fatto anche autorevoli esponenti della Chiesa, nei confronti del governo, aspre polemiche riportate anche dai quotidiani, da quelle parti ci abitano italiani, ci abitano cittadini umbri e non cittadini di serie B, come lo stesso rappresentante del mondo ecclesiastico ha puntualmente evidenziato. Quindi noi abbiamo l'obbligo e il dovere di essere in squadra per poter centrare obiettivi che ormai possono essere solo e scusamente centrati, altrimenti i nostri concittadini avranno ancora ulteriori motivi per lamentarsi. Quindi la ringrazio e mi dichiaro soddisfatto del suo intervento. Grazie consigliere Mancini. Ricordo a tutti per cortesia di stare seduti quando parlate per misure anti-Covid. Oggetto numero 14 risponde Melasecche. L'assessore Melasecche interroga Peppucci? Sì. Intendimenti della Giunta regionale in merito agli elettrotreni minuetto acquistati dalla Regione Umbria e non utilizzati. Presentata da Peppucci, carissimi, Rondini e Mancini. La parola alla consigliera Peppucci. Grazie Presidente. Come sappiamo bene quelli legati alla FCU sono problemi che si stanno trascinando da tempo e che hanno portato negli anni a retrocedere in termini di quantità e qualità comunque dei servizi fino a giungere alla quasi totalità della chiusura della linea ferroviaria nonostante il fatto che il tratto Terni-Ponte-San Giovanni sia stato anche dichiarato di interesse nazionale. Problemi che chiaramente vedono correlate molte questioni tra cui questa che appunto andrò ad esporre che fa riferimento agli elettrotreni minuetto acquistati dalla Regione Umbria e fermi ad Umbertide. Infatti nel 2008 la Regione Umbria ha acquistato 4 elettrotreni minuetto per un costo di circa 16 milioni di euro. Questi mezzi non sono mai stati utilizzati in Umbria ma solo in alcune tratte nazionali e appunto da quanto ci risulta sembra che non si sappia bene a chi è riconducibile anche la proprietà e forse questo ci potrà meglio dire l'assessore. Ed in più stando fermi sui binari sono stati scarabocchiati da dei vandali che ne hanno rovinato interamente le facciate con disegni fino a sopra i vetri andando chiaramente a ridurne la visibilità interna. Consideriamo chiaramente assurdo che anche se la linea ferroviaria sia dotata di alimentazione elettrica la quale chiaramente ha richiesto un ulteriore investimento si continua ad utilizzare i treni a gasolio mentre i minueti che abbiamo acquistato solamente 12 anni fa sono fermi in stazione. Apprezziamo l'interessamento dell'assessore Melasetche il quale ci risulta anche da notizie stampa sia andato personalmente ad Umberti dall'officina della FCU per fare un sopralluogo ma chiaro che data questa situazione abbiamo la necessità di sapere i motivi del mancato utilizzo degli elettrotreni minuetto se gli utenti hanno subito inefficienze in termini di servizio dovuti da questa situazione se sussistono profili di danno errariale e quale azione la Giunta regionale intende mettere in campo per evitare il perdurare di questa condizione di spreco. Grazie. Assessore Melasetche Sì, in effetti il problema è stato in parte da me approfondito con un sopralluogo al deposito di Umbertide nel quale mi sono confrontato con funzionari, con operai i quali mi hanno espresso un po' il loro dispiacere di vedere un settore come quello a cui loro tengono molto con grandi professionalità diciamo un po' abbandonato a se stesso in una situazione che dura da troppi anni c'è un po' un giallo sui minuetti perché in effetti dopo l'acquisto avvenuto dalla Alston ferroviaria nei anni 2006-2007 come diceva lei giustamente costati circa 16 milioni c'è una situazione di assoluta incertezza nei vari passaggi che si sono stati nel corso di questi anni le risorse con cui furono acquistati erano inizialmente già in dotazione all'FCU-SRL e la Regione procedeva quindi con atti di autorizzazione allo svincolo delle stesse somme per procedere ai pagamenti dal 2007 FCU-SRL ha riversato le risorse rimaste nelle proprie disponibilità alla tesoreria regionale da quel momento la Regione ha provveduto con atti di impegno e liquidazione al trasferimento ad FCU ogni qual volta vi erano stati di avanzamento e fatture da pagare con delibera di giunta regionale 1992 del 23 dicembre 2009 11 anni fa è stato approvato il rinnovo del contratto di programma che disciplinava fra Regione ed FCU la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e il programma degli investimenti all'interno del quale all'articolo 8,13 c'è un punto che riguarda specificamente i minuetti vi si stabiliva quanto segue nell'ipotesi di mancato rinnovo del contratto di servizio all'FCU in qualità di impresa ferroviaria esercente ai servizi di trasporto ferroviario sulla linea regionale la stessa si impegna a cedere alla Regione con corrispettivo pari a zero fatta salva l'applicazione delle dovute imposte di trasferimento anche i quattro elettrotreni matricola TR1, TRU2, 3 e 4 minuetto appunto acquistati con risorse regionali ed inclusi nell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 281 del 97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 422 del 1997 in materia di investimenti nel settore dei trasporti quanto stabilito all'articolo 8,13 sopra testualmente indicato veniva riportato anche nel contratto di programma del 2011 approvato con delibera di giunta regionale il 27 luglio del 2011 a seguito del subentro di Umbria TPL immobilita alla precedente FCU alla luce degli atti e dei documenti risultanti all'ufficio sono trascorsi nove anni ad oggi non risulta ancora effettuato alcun trasferimento dei citati minuetti al patrimonio regionale quindi al momento è incredibile ma vero non risultano in proprietà né alla regione né ad Umbria Mobilità quindi iscritte al patrimonio né della società né della regione e questo doveva essere invece definito a seguito della cessione del ramo di azienda servizi ferroviari da parte di Umbria TPL e Mobilità ad Umbria Mobilità esercizio poi trasferita a Busitalia Cosa fare? Abbiamo in animo e stiamo facendo gli approfondimenti per rimetterli in esercizio nell'ambito dell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario di imminente predisposizione o a Busitalia con un nuovo contratto oppure l'acquisizione da parte della regione al patrimonio regionale formalizzando diciamo l'acquisizione e la messa a disposizione di uno dei gestori dei servizi ferroviari regionali è uno dei temi caldi a cui stiamo in qualche modo mettendo mano come quello delle stazioni ex FCU vandalizzate, aperte in cui non si sa chi deve provvedere se la regione, se Busitalia, se Umbria Mobilità anche qui sono quelle situazioni lasciate in sospeso nel corso di questi anni un po' travagliate del trasporto a cui cercheremo di mettere mano quanto prima grazie Assessore Melasecche la parola al Consigliere Peppucci per la replica grazie ci riteniamo soddisfatti della risposta dell'Assessore Melasecche e delle azioni che si stanno mettendo in campo interrogheremo nuovamente la giunta regionale qua in aula o comunque chiederemo tramite la commissione permanente la seconda commissione consigliare permanente con Presidente Valerio Mancini di riaggiornarci su questo tema perché è chiaramente caro a tutta la comunità Umbra dato che sono state spese solamente 12 anni fa risorse pubbliche grazie grazie